Ennesima drammatica strage di migranti nel Mediterraneo, almeno 45 le vittime e 135 le persone tratte in salvo dalla marina militare. E' il terzo naufragio in tre giorni nel canale di Sicilia. Tra oggi e domani sbarcheranno sulle coste italiane quasi 2000 persone salvate da ben 17 operazioni di soccorso avvenute nella sola giornata di ieri. Storica prima visita di un presidente degli Stati Uniti al memoriale della pace di Hiroshima, Obama ha deposto una corona di fiori. La bomba atomica ha detto servì a chiudere la seconda guerra mondiale, che qui ha raggiunto il suo picco peggiore. Piango per quei morti, ora è necessario pensare a un mondo senza ordini nucleari. E' partito ieri sera da New Delhi il fuciliere della marina Salvatore Girone, che l'India deteneva dal 2012 perché ha accusato, insieme al comilitone Massimiliano Latorre, di aver ucciso due pescatori. Nel pomeriggio è previsto il suo arrivo a Ciampino, dove sarà accolto dai ministri Gentiloni e Pinotti. Girone resterà sotto l'autorità della Corte Suprema indiana durante l'arbitrato internazionale che oppone l'Italia all'India. Fantastica impresa di Vincenzo Nibali al Giro d'Italia. Il messinese trionfa sulle Alpi francesi e ora è a soli 44 secondi dalla maglia rosa del colombiano Chavez. Oggi ultima durissima tappa con quattro salite prima della passarella finale di domani a Torino. Questa sera a Milano invece è finale di Champions League, va di scena al derby madrileno tra Real e Atletico. Sono le 7.33, una buona giornata dal telegiornale che apriamo andando subito a vedere qual è la situazione nel canale di Sicilia e sul fronte dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Perché lo sentivate nei titoli, stanno arrivando quasi 2000 persone, quasi 900 a Catania, 526 a Porto Empedocle, altre 700 a Taranto. Sono quelle salvate dai mezzi della nostra Marina, ma purtroppo ci sono anche tanti che ancora non ce l'hanno fatta. Era già semi affondato quando la nave Vega della Marina Militare ieri sera è a Corsa nel canale di Sicilia, ha trovato il gommone in parte sommerso dall'acqua. Queste le prime immagini del naufragio. I soccorritori sono riusciti a trarre a bordo 135 persone aggrappate a qualunque cosa galleggiasse. Poi hanno recuperato le salme, finora 45, ma si teme ci siano ancora decine di dispersi. I migranti parlano di un centinaio di vittime. Chi è sopravvissuto racconta del terrore che si è diffuso a bordo appena il gommone è iniziato a imbarcare acqua. Chi ha spinto i migranti ad alzarsi in piedi in un attimo sono scivolati nel mare, pochi sapevano nuotare. Si tratta della terza strage negli ultimi tre giorni, 200 le vittime accertate. Solo ieri sono state condotte 17 operazioni di salvataggio, 2.000 persone tratte in salvo, 15.000 in 5 giorni. In questo momento un rimorchiatore sta portando quasi 900 migranti a Catania. Un impegno immane è quello della Marina Militare e Guardia Costiera che si imbatte nell'ostacolo dei centri di accoglienza stracolmi. Il Ministero dell'Interno sta preparando una nuova circolare per sollicitare prefetti e sindaci a trovare nuovi posti, mentre si delinea sempre più chiaramente una nuova rotta della disperazione che salpa dall'Egitto, una valida alternativa facile da raggiungere soprattutto per i siriani che dopo la chiusura della rotta balcanica puntano ora all'Italia per arrivare in Europa. Invece noi adesso ritorniamo in Giappone per rivedere le immagini, questo storico abbraccio della storica presenza. Davvero non è superfluo usare questo aggettivo della visita fatta dal Presidente degli Stati Uniti Obama a Hiroshima. Non poteva che essere Barack Obama il Presidente che più di tutti ha cercato di cambiare la storia, aprendo a Cuba, all'Iran, chiudendo le ultime sanzioni al Vietnam, a tenere tra le braccia Shigegaki Mori, quasi ottantenne, che sul corpo porta ancora i segni dell'atomica sganciata dagli americani su Hiroshima il 6 agosto 1945. È la prima volta che un Presidente in carica osa entrare nella Ground Zero giapponese, il luogo più sacro del paese. Obama non lo fa per guardare indietro e chiedere scusa per gli oltre 140.000 morti. Lo fa per dimostrare che certe ferite possono essere rimarginate, non dimenticando, ma ricordando insieme unico modo per progettare un futuro diverso. Oggi siamo qui, dice, in un discorso dei suoi attratti drammatico, nel mezzo di quella che era una città viva e ci sforziamo di immaginare il momento della caduta della bomba, di provare sulla nostra pelle il terrore dei bambini mentre cercano di capire che cosa sta accadendo. Le parole non possono descrivere tanta sofferenza. E proprio per questo abbiamo la responsabilità di guardare negli occhi la storia e fare tutto il possibile perché non accada mai più. Il Premier giapponese Shinzo Abe ricorda che da quella tragedia è nata un'alleanza vitale. Barack Obama va oltre e parla della necessità di un risveglio morale. Forse non siamo in grado di eliminare la capacità dell'uomo di fare del male, dice a chi lo ascolta in silenzio, ma paesi come il mio, che hanno un arsenale, devono avere il coraggio di fuggire dalla logica del terrore e cominciare a progettare un futuro che impedisca a chi la vuole di ottenere l'arma atomica e da smantellare le proprie. Abbiamo il dovere, scandisce Obama, di progettare un mondo senza la bomba. Sapete, Obama era in Giappone perché aveva preso parte al G7 e nelle conclusioni del G7 i leader hanno detto che la priorità resta comunque la crescita economica e che va usato qualsiasi strumento per incrementarla e sostenerla. hanno espresso anche grande preoccupazione per quella che è una nuova crisi quindi la possibilità di una nuova crisi, quindi sì, ad una politica espansiva ad attuare con ogni mezzo che vuol dire monetario, fiscale perché appunto la priorità ancora una volta resta la crescita. Hanno però confermato le sanzioni alla Russia che non saranno rimosse fino alla completa attuazione degli accordi di Minsk che dovrebbero porre fine al conflitto con l'Ucraina. L'Ucraina, scusate, sulla questione dei migranti e rifugiati hanno detto che si tratta di una sfida globale e che richiede una risposta globale. Poi questo che cosa nel concreto significhi lo vedremo nei prossimi giorni. Intanto noi ci occupiamo ancora in qualche modo di Stati Uniti perché ci occupiamo di Donald Trump che potrebbe essere a questo punto il prossimo presidente degli Stati Uniti. era rimasto in sospeso ieri sera la possibilità di un faccia a faccia che lui peraltro ha sempre rifiutato finora con gli altri candidati con Bernie Sanders ma poi è stato nuovamente Trump a tirarsi indietro e ha detto no, non lo faccio perché Bernie Sanders è ancora in qualche modo un numero due e quindi sarebbe uno scivolone ma non è l'unica notizia che lo riguarda. Capita sempre più spesso prima, durante e dopo un comizio di Donald Trump la tensione sale e i contestatori delle magnate new yorkese che ha la nomination repubblicana in tasca si scontrano con la polizia. È accaduto anche questa notte a San Diego, in California il confine con il Messico e a pochi metri e come noto il tycoon non è mai stato tenero con coloro che attraversano la frontiera per cercare una vita migliore negli Stati Uniti. Per questo da tempo ha proposto la costruzione di una barriera e non si è certo guadagnato la simpatia degli abitanti di lingua spagnola che proprio a San Diego sono un terzo dell'intera popolazione. Era facile insomma prevedere manifestazioni e proteste così più di mille persone fuori dal Convention Center hanno cominciato a gridare slogan anti-Trump ed esporre bandiere statunitensi e messicane. Alla fine gli agenti in assetto antisommossa sono intervenuti usando spray al peperoncino e arrestando tre manifestanti. Intanto all'interno Trump non ha certo abbassato i toni in particolare ha attaccato il giudice Gonzalo Curiel che si sta occupando del caso della Trump University l'Ateneo da lui fondato che avrebbe insegnato senza licenza dal 2005 al 2011 truffando gli studenti. Mi odia e molto stile del messicano dovrebbe vergognarsi ci vediamo a novembre da Presidente minaccia Trump che in precedenza aveva rifiutato il dibattito con il candidato democratico Bernie Sanders un evento che avrebbe danneggiato soprattutto Hillary Clinton sarebbe inappropriato spiega il tycoon di battere con un candidato che finirà secondo nelle primarie. Parliamo di lotta all'Isis perché continua con un certo successo sembrerebbe l'avanzata delle forze irachene sostenute da quelle americane lo sappiamo verso Falluja che è circondata gli uomini di al-Baghdadi impediscono però alla popolazione civile di scappare dalla città il che comporta dei veri e propri massacri però ad indebolire la posizione del sedicente Stato islamico potrebbe anche esserci stato un raid delle forze della coalizione due giorni fa hanno colpito e ucciso quelli che vengono definiti 70 terroristi fra loro c'era anche Maer al-Bilawi che è il comandante militare dell'Isis a Falluja in Italia invece noi siamo alle prese con le polemiche che riguardano le prossime elezioni amministrative e il referendum costituzionale ma in questi giorni ce n'è un'altra di questioni che tiene Banco e ha a che vedere con la giustizia e in particolare con un nervo particolarmente scoperto che è quello della prescrizione E ancora una volta la giustizia a far salire la tensione all'interno della maggioranza scontro tra il Partito Democratico e un nuovo centro-destra sulla riforma della prescrizione attesa da anni Il caso scoppia dopo che i relatori Demma, Cucca e Casson presentano al Senato due emendamenti in cui si legge la prescrizione decorre dal momento in cui la notizia di reato arriva sul tavolo del pubblico ministero cessa in ogni caso dopo la sentenza di primo grado dunque se uno è condannato non potrà più sperare nel colpo di spugna della prescrizione ma sono norme che costano con quanto chiesto dalla NCD non più 21 anni e 9 mesi per prescrivere la corruzione come previsto al testo licenziato dalla Camera ma tetto a 16 anni e mezzo Insomma quanto basta per provocare un'immediata reazione dei centristi a cui non va giù il blitz del PD e così Angelino Affano dice dentro la commissione giustizia c'è un residuo giustizialista ancora una volta il BT è chiamato a scegliere tra un vecchio giustizialismo e un profilo riformatore che noi stiamo sostenendo da tempo e il capogruppo Renato Schifani chiede espressamente il ritiro dei due emendamenti anche Ala di Verdini si dice non disponibile ad aderire all'iniziativa di Cassone e Cucca per contrapunto quanto stabilito dai nuovi emendamenti piace la sinistra Dem bene, benissimo dicono i dissidenti del Nazareno prendiamo atto della proposta con soddisfazione al coro si uniscono anche i 5 Stelle pronti a votarla noi ci siamo anche se Di Maio insinua ma siamo sicuri che la proposta Cassone sia anche la proposta di tutto il PD un dubbio che non sembra proprio infondato infatti il capogruppo Democrat Zanda spiega che si tratta di ipotesi di lavoro e l'Associazione Nazionale Magistrati questa volta preferisce non intervenire nelle polemiche politiche no comment per Davico vedremo se sarà così anche nei prossimi giorni intanto occupiamoci di Salvatore Girone previsto intorno alle 6 di oggi pomeriggio il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino dopo oltre 4 anni Salvatore Girone atterrerà questo pomeriggio nell'aeroporto militare di Ciampino il fuciliere di Marina ha già lasciato New Delhi ieri sera con un volo della compagnia indiana insieme al nostro ambasciatore direzione Abu Dhabi sarà poi un nostro volo militare a riportarlo da lì in Italia a consentirgli di lasciare l'India è stata l'autorizzazione rilasciata due giorni fa dalla Corte Suprema locale che ha dato il via libera a rimpatrio provvisorio così come stabilito dal Tribunale arbitrale dell'AIA a fine aprile le pratiche amministrative sono state così rapidamente chiuse Girone ha ottenuto un visto di uscita necessario per potersi imbarcare un rientro vincolato ad alcune condizioni tra cui l'obbligo di consegnare il suo passaporto alle autorità italiane l'obbligo di firma ogni settimana presso un commissariato e il divieto di entrare in contatto con altre persone coinvolte nell'incidente dell'Enrica Lexi in particolare dunque con l'altro fuciliere Massimiliano Latorre già in Italia dal 2014 per motivi di salute tutti e due accusati di aver ucciso nel febbraio del 2012 due pescatori indiani a largo delle coste del Kerala Girone potrà restare in Italia per tutta la durata del procedimento arbitrale che stabilirà dove dovrà essere tenuto il processo a loro carico tra le altre condizioni imposte dalla Corte Suprema indiana anche quella di far rientrare Girone a New Delhi entro un mese da una eventuale decisione favorevole del Tribunale dell'AI all'India sulla giurisdizione questo pomeriggio ad accogliere il fuciliere ci saranno il Ministro della Difesa Pinotti e quello degli esteri Gentiloni e c'è un altro processo che invece è ormai alle ultime battute è quello per l'omicidio di Yara Gambirasio come sapete l'unico imputato è Massimo Bossetti un processo fondato sul nulla dove si è parlato di tutto ma che lascia aperte domande fondamentali come è morta Yara Gambirasio e con quali armi è stata colpita così gli avvocati difensori di Massimo Bossetti il 45enne muratore di Mapello unico imputato per l'omicidio delle 13enne che ieri per tutto il giorno hanno ripercorso le parti dell'indagine considerate deboli o contraddittorie evidenziando i presunti errori dei periti e degli specialisti dei reparti speciali delle forze dell'ordine incaricati dalla procura è un processo basato su suggestioni non c'è alcuna certezza detto l'avvocato Claudio Salvagni davanti alla corte d'assise di Bergamo per il pubblico ministero Letizia Ruggeri invece la prova granitica della colpevolezza di Bossetti c'è e del suo DNA trovato sugli indumenti della ragazzina ma quelle analisi sulle tracce genetiche per noi sono un atto di fede ha sostenuto l'avvocato Salvagni perché è un lavoro fatto da altri accertamenti su cui questa difesa non ha mai potuto interloquire un processo pieno di colpi bassi secondo il legale che ha anche definito appiattita sulle tesi della procura la stampa perché è diffuso come fosse un pacco dono il video del furgone ripreso mentre si aggirava intorno alla palestra da cui Iara Gambirasio era uscita poi scomparsa il 26 novembre 2010 in aula c'era la moglie di Bossetti marita Comi assente invece la madre Esther Arzuffi l'imputato ha pianto solo quando in aula si è parlato dei suoi familiari è un uomo tutto casa lavoro e famiglia per lui questo processo è una tortura dicono gli avvocati che nella prossima udienza termineranno la loro ringa difensiva poi il 17 giugno le repliche mentre il primo luglio Massimo Bossetti rilascerà dichiarazioni spontanee prima che la Corte si ritiri in Camera di Consiglio per emettere la sentenza l'accusa aveva chiesto l'ergastolo e sei mesi di isolamento diurno c'è un allarme un allarme che arriva dagli Stati Uniti non è una diciamo vicenda inaspettata era da tempo che gli scienziati dicevano guardate si sta correndo questo rischio ebbene in realtà è stato per l'appunto individuato un cosiddetto super batterio cioè un batterio che è resistente a qualsiasi tipo di antibiotico una escherica coli in questo caso è stata trovata nelle urine di una donna della Pensilvania e questo agente patogeno si è dimostrato resistente persino a un antibiotico di ultima generazione che si chiama colistin ora la donna che ha 48 anni per il momento sta bene ma ovviamente ci sono anche indagini in corso per capire dove si sia infettata se a causa di un ricovero e anche per capire fra l'altro quanto sia diffuso questo super batterio perché gli esperti lo definiscono ovviamente un incubo e stimano che possa arrivare a uccidere pensate addirittura il 50% delle persone che potrebbero venirne contagiate bene occupiamoci di tutt'altro adesso in attesa di sapere quali saranno gli sviluppi parliamo di una cosa invece più entusiasmante sicuramente parliamo di sport parliamo del giro d'Italia e le ultimissime battute ma ancora ci lascia con il fiato sospeso da anni il giro non rimaneva in bilico sino a due tappe dal traguardo finale tutto a causa di una concatenazione di eventi degne di un regista del strilling in grado di mandare all'aria ogni pronostico la terz'ultima frazione quella che ha cambiato volto alla corsa rosa porta una firma d'autore quella di Vincenzo Nibali il campione d'Italia ha saputo risorgere dalle sue ceneri dopo una lunga serie di passaggi a vuoto sia in salita sia a cronometro il suo arrivo solitario a Risul rimane nella storia di questo giro come uno degli exploa da incorniciare trionfo e lacrime tutto dedicato alla memoria del suo giovane allievo Rosario Costa scomparso durante una seduta di allenamento oggi Nibali riparte con gli ultimi 44 secondi da recuperare alla nuova maglia rosa del colombiano Esteban Chavez non sarà semplice con 134 chilometri che comprendono quattro salite molto impegnative e un dislivello di oltre 4000 metri ma forse la grande giornata di Nibali non avrebbe rivoluzionato la classifica se Scarponi non avesse lavorato duramente per il suo capitano e se una spettacolare caduta sulla neve non avesse rovinato la prestazione dell'olandese Kreuzweig nel momento chiave sulla discesa del colle dell'agnello si è trovato solo con l'ammiraglia lontana e la bici danneggiata maglia rosa persa e oltre un minuto di ritardo dal nuovo leader assoluto Chavez mentre alle spalle di Nibali gli unici a resistere sono stati Nieve e appunto il colombiano della Orica Valverde che era terzo nella generale ha perso oltre due minuti ed è scivolato fuori dal podio e a Milano invece si gioca questa sera per la Champions League certo le squadre sono tutte e due spagnole però vale comunque la pena di seguirlo entra San Siro e si mette prudentemente all'angolo Real Madrid quasi a volersi proteggere da uno stadio che come pochi altri al mondo gli ha fatto male ma è una vittoria nei 14 precedenti e quel che più impressiona neanche la miseria di un gol per Cristiano Ronaldo che pur alla finale arriva con un bottino record in questa Champions 16 reti e tutti gli occhi addosso tanto che Zinedine Zidane in conferenza stampa ha giusto il tempo di sedersi prima di rassicurare i media sul suo stato fisico no io credo che non è la misma cosa sai tenia un po' di molestia e io credo che sta bene ci sarà al 100% dunque nonostante la molestia a spingere il Real Madrid verso l'undicesima Coppa dei Campioni da strappare come due anni fa a Lisbona a chi ancora insegue la prima l'atletico non è più una sorpresa l'abitudine a stare in alto ha fortificato il gruppo non l'allenatore un duro predestinato a gestire il peso della storia come quando dal giocatore arrivò a San Siro con la maglia nera azzurra così come adesso capace di rendere il Real e l'impossibile guidando un atletico che ha il suo volto e il suo timbro da difendere a tutti i costi anche dalle critiche di Cristiano Ronaldo Il calcio come la politica e la religione consente opinioni diverse e consacra nello spazio di poche ore lo sa il Real condannato a vincere lo sa l'atletico che ha di nuovo l'occasione di provarci in uno stadio che ha fatto di tutto per essere all'altezza e nascondere gli acciacchi della vecchiaia visto che finirà nelle case di 180 milioni di persone con 220 paesi collegati litri di vernice metri di mochette chilometri di cavi tirati fino all'ultimo il Prato finalmente a 5 stelle la tribuna stampa triplicata e le zone executive ampliate e tirate a lucido per avere in Italia il calcio che conta insomma di questi tempi almeno bisogna essere buoni ospiti Sempre bisogna essere buoni ospiti sono le 7.52 noi finiamo qui e diamo subito la linea a Paolo Sottocorona poi oggi alla conduzione di Omnibus Frediano Finucci invece Omnibus News ritorna come sempre a partire dalle 6.30 di domani Buona giornata Buona giornata